Musica 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 Grazie a tutti. Buonasera a tutti, buonasera. Buon compleanno, bellissimo da tanto. Grande, eh? C'è tanti amici che ti vogliamo bello. Voglio dire che è un coltubrio bello perché sono una persona che è nata a passione di musica, a passione di questo genere. E suonare in questo posto, che da quando io sono bambino, è un nido per chiunque abbia mai pensato di andare in giro a suonare la propria musica, o anche la musica degli altri. Io mi ricordo perché quando eravamo mischiati, già si parlava di un canno. Me lo ricordavo un po' più corto. Stasera, diciamo, la danza era un po' più lunga. Almeno prima si arrivava con la macchina. Adesso si lascia la macchina tipo, che è la cartonica, dove l'abbiamo cercata. Però fa pensare, e io ho una grandissima benedezza, a tutte le persone che hanno risolvato una parte speciale al suonare. E ne hanno fatto un mestiere, ne hanno fatto una vita, a volte non sono riusciti a fare un mestiere, ma ne hanno fatto una parte più importante di vita. Alcuni sono costretti e sono magari molto più bravi, molto più puliti di noi, che magari abbiamo la fortuna di farlo come un mestiere. Sono molto più bravi e molto più bravi, ma sono costretti magari a fare degli altri lavori. Altri sono stati più fortunati, hanno riuscito a farlo, comunque restano tutti quanti dei suonatori. E questa lezione si chiama il suonatore. E questa lezione si chiama il suonatore. E la mia un'altra lezione si chiama il suonatore. E a meno questa sera. Lo ricordo per loro, sono un solto e la mia vita la storia. Davide, anche per te, o per te? Di autostrade, famigli, segni e per me, vive meglio e sbagliate. C'è te che canta con te, in gruppo euro, c'è il sang, non mi vola in tu. Vesù tanto piacote, potes mi fusti tu. C'è te che canta con te. In unanda, tu' am 어디? Grazie a tutti. 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 a tutti.